Donna investita sui binaria cattolica, traffico ferroviario in tilt. L'assemblea PD ratifica la candidatura a sindaco di Biancani. Il caso Soria, nessun cambio di viabilità sul Lungofoglia. Da Villa Miralfiora a Palazzo Ducale, le meraviglie svelate dalle giornate FAI. Spettacolo di ciclismo sulle strade pesaresi con la Cuppi Bartali. Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossetti. Ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di Rossini News. Telegiornale di martedì 19 di marzo che apriamo con la cronaca perché è stata una giornata e soprattutto una mattinata piuttosto complicata per chi ha viaggiato in treno a Pesaro e non solo. Purtroppo alle 4.45 del mattino una donna di cui al momento non sono state rese note le generalità è stata investita sui binari all'altezza della stazione di Cattolica, proprio davanti al bar. Il treno proveniva da Pesaro sul posto immediato l'intervento di polizia ferroviaria e autorità giudiziaria per ricostruire l'accaduto. Un accaduto che ha portato la circolazione dei treni a rimanere sospesa a lungo e ripresa su un solo binario soltanto dopo le 8.30 accumulando ritardi anche di due ore. La politica, ieri sera nella sede del Partito Democratico di Pesaro di Via Salvatori, la riunione dei Demma alla presenza di circa 60 esponenti, ha ratificato con voto unanime la candidatura a sindaco di Pesaro di Andrea Biancani. La riunione è stata propedeutica al dibattito sulle linee di un programma elettorale che sarà presentato nei prossimi giorni. E tra chi dialogherà con il Partito Democratico e la coalizione di centro-sinistra c'è anche Alleanza Verdi-Sinistra che si è presentata in vista delle prossime elezioni amministrative a Pesaro. Guidata dal coraggio di osare, Alleanza Verdi-Sinistra è pronta alla sfida delle elezioni amministrative dell'8-9 giugno. Anche a Pesaro lo schieramento politico unirà i simboli di Europa Verde e Sinistra Italiana, come ricordato dall'On. Luana Zanella, capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi-Sinistra che al GRA di Palazzo Gradari ha presentato quella che sarà una lista plurale ad aperta pronta a dare il suo contributo alla coalizione di centro-sinistra su temi specifici, dalla tutela del territorio alla riforma dello sport fino all'inclusione sociale. La giustizia sociale e la giustizia ambientale. Cerchiamo di unire questi due temi e di portarli avanti assieme perché rappresentano le due urgenze che dobbiamo mettere in prima linea. I temi sono quelli ambientali, sociali e ovviamente il nostro punto di forza è riuscire a parlare ai giovani e riuscire a portare le politiche sempre più sostenibili sul tavolo della trattativa delle amministrative e chiaramente siamo qui per cercare di vincere. La gestione pubblica dei beni e dei servizi, delle partecipate, quindi la governance di queste società, il ritiro immediato del progetto di discarica a Risceci. Altra questione è l'emergenza a casa. Non è più rimandabile affrontare questo problema che coinvolge gran parte della popolazione e le persone a cui facciamo riferimento, che sono quelle che fanno fatica ad arrivare a fine mese, fanno fatica a trovare una casa in affitto. La questione del trasporto pubblico, quindi un trasporto pubblico gratuito, noi proponiamo almeno con un biglietto climatico a 9 euro al mese che possa essere, oltre che un incentivo, anche una misura di giustizia sociale. Obiettivi elettorali presentati anche da Sabrina Santelli e Maria Rosa Conti che per Europa Verde sono rispettivamente portavoce regionale e assessore comunale a Pesaro. Interventi seguiti di persone anche dal candidato sindaco in pectore Andrea Biancani e dal segretario comunale PD Gian Piero Bellucci nell'ottica di un dialogo di coalizione. L'astenzionismo è un punto dolente di ogni amministrazione e di ogni volta che c'è la politica amministrativa e noi vogliamo proprio cercare di fare in modo che tutti i cittadini abbiano fiducia in noi, abbiano la trasparenza del dialogo e riusciamo a dialogare e a portare tutti i problemi di Pesaro sul tavolo delle trattative. E osare è la nostra parola d'ordine d'ora in poi perché noi vogliamo osare nella trasparenza e per dare fiducia ai cittadini che ci devono credere e devono credere in noi. E dalla campagna elettorale di Pesaro a quella di Urbino che sperimenta per la prima volta una corsa al terzo mandato. Quello del sindaco in carica Maurizio Gambini oltre ad una campagna elettorale inedita con Urbino riconosciuto come capoluogo di provincia. Conferme e novità che analizziamo in questa intervista realizzata ad Elisabetta Foschi, assessora di Urbino, nonché coordinatrice provinciale di Forza Italia che è stata ospite nei nostri studi. Dopo il semaforo verde parlamentare sul terzo mandato ai sindaci di demografia inferiore ai 15.000 abitanti, il centro-destra di Urbino si compatta attorno alla ricandidatura di Maurizio Gambini a sindaco. Un valore di continuità sul percorso intrapreso come spiegato da Elisabetta Foschi, assessora di Urbino, nonché coordinatrice di Forza Italia che compone una coalizione che viaggia decisa sul Gambini-Ter. Per noi rappresenta la possibilità di portare a conclusione tutta una serie di opere iniziate nella legislatura precedente ma che in particolare con i fondi del PNRR necessitano di un'ultimazione in tempi stretti, in pochi anni e credo che sia fondamentale che possa seguire la stessa amministrazione, lo stesso sindaco che gli ha varati quei progetti. Quindi è stata un'occasione importante e utile che abbiamo colto subito. Per Urbino è una campagna elettorale accompagnata da rivoluzioni non solo lo che ha il terzo mandato ma anche il riconoscimento di Urbino, capoluogo di provincia che allarga la possibilità di giunta fino a nove assessori e a 32 consiglieri comunali. L'essere riconosciuti capoluogo comporta per legge in Italia il fatto di avere un consiglio di 32 e una giunta fino a 9, quello è il massimo consentito ed è una novità importante, a parte i numeri, è una novità importante il riconoscimento dello status di capoluogo per il comune di Urbino perché questo consolida e certifica la importanza non solo della città ma anche delle istituzioni e non solo comunali che in un capoluogo hanno sede. Il 23 marzo sarà presentata la candidatura di Maurizio Gambini che darà il via ad una battaglia elettorale col centro-sinistra che ha invece candidato Federico Scaramucci. Una sfida importante, io credo che quando l'offerta ai cittadini è ampia e si dà modo a ciascun cittadino di ascoltare vari programmi o riconoscersi in qualche schieramento è un vantaggio comunque per tutta la città. Torniamo su Pesaro per parlare di un caso dibattuto nelle ultime settimane infatti con una proposta che presenterà nel prossimo Consiglio Comunale che l'assessora alla Rapidità Mila della Dora chiude la partita su Largo Tre Martiri oggetto della delibera urbanistica che consentirà la riqualificazione dell'area in particolare con l'intervento antidegrado sull'ex Suzuki senza toccare la viabilità esistente. Secondo la della Dora la delibera sarà un'azione antidegrado su Largo Tre Martiri e aggiunge un impegno formale alle rassicurazioni già date ai cittadini di Soria durante la riunione che aveva convocato per coinvolgere il quartiere ovvero la rassicurazione che la bretella su Via Agostini non si farà e la viabilità della zona resta tale quale con lungo foglia caboto che rimane dunque a doppio senso di marcia. L'educazione finanziaria è un requisito fondamentale per chi affronta le sfide del mondo imprenditoriale odierno imprenditori ai quali si rivolge l'inedito master proposto da Banca di Pesaro e Università di Urbino. Lezioni di educazione finanziaria per affrontare le complessità di un sistema sempre più competitivo per gli imprenditori del territorio ed è a questi che si rivolge il primo master organizzato in tal senso dall'Università di Urbino in collaborazione con la Banca di Pesaro con otto lezioni dal mese di aprile. È un progetto che abbiamo impostato insieme all'Università di Urbino perché è giusto che la Banca del territorio, la Banca di Pesaro sviluppi quelle che sono le conoscenze finanziarie sono conoscenze necessarie per ogni piccola e media impresa non perché gli imprenditori non le hanno ma per migliorarle e per metterle in condizioni di affrontare al meglio le loro attività e con le problematiche di oggi vuoi l'aumento dei tassi che c'è stato vuoi le problematiche finanziarie sulla crisi che c'è stata sull'aumento istat importante degli scorsi anni quindi una serie di aspetti che un imprenditore che comunque conosce ma che può approfondire grazie anche al contributo che la Banca di Pesaro ha impostato insieme all'Università di Urbino che fa seguito ad altre sinergie sempre con l'Università di Urbino in ambito finanziario Pensiamo tutti di conoscere come funzionano i mercati finanziari poi invece scopriamo da tante ricerche che il livello della conoscenza finanziaria appunto l'educazione finanziaria non è a livelli molto elevati quindi la nostra ambizione è quella di dare un contributo sul territorio, non solo agli studenti ma in questo caso appunto è rivolto al mondo imprenditoriale sembra strano ma pensiamo che ci possa essere un interesse su questo tipo di formazione e questo nasce dal rapporto che abbiamo con la banca cioè con questo confronto ci sta dicendo che ci può essere uno spazio anche nel mondo imprenditoriale tra l'altro molti studi dimostrano che anche la capacità degli imprenditori di accedere alle risorse finanziarie è direttamente proporzionale al loro livello di educazione finanziaria quindi ecco di nuovo la nostra ambizione è di dare un piccolo contributo a favorire la crescita delle piccole imprese nella nostra provincia Sabato e domenica 23 e 24 marzo tornano le giornate FAI di primavera due giorni in cui ammirare gioielli spesso nascosti alle visite pubbliche e vediamo in particolare quali luoghi verranno aperti nella città di Pesaro Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le giornate FAI di primavera il più importante evento di piazza è dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia che svela gioielli spesso nascosti alle visite pubbliche saranno 750 le aperture straordinarie in tutta Italia 18 nella provincia di Pesaro Urbino giornate presentate nella prefettura il cui Palazzo Ducale è uno dei quattro luoghi visitabili nella capitale della cultura apriremo qui a Pesaro proprio il Palazzo Ducale dove ci troviamo con un'anteprima il venerdì pomeriggio dedicato solamente agli iscritti FAI apriremo poi la chiesa del nome di Dio altro luogo legato a Della Rovere e poi apriremo il parco e la villa Miralfiore Villa Miralfiore che sarà un bene riservato solamente agli iscritti FAI ci si potrà iscrivere anche sul posto poi apriremo perché ama appunto i giardini e le dimore storiche Villa Cattani Stuart a Trebbia Antico all'interno delle giornate FAI ci sarà domenica pomeriggio due percorsi dedicati alla medicina forestale che è questa nuova medicina complementare che viene dal Giappone ormai dagli anni 80 ormai si sta diffondendo anche in Italia e permette alle persone di entrare in un contatto diverso con gli alberi e con la natura con esperienze emotive con esperienze anche in qualche modo che rendono una visione del rapporto uomo-natura molto più integrato A quattro anni dalla scomparsa dell'imprenditore peserese Giovanni Ranocchi domenica 24 marzo si terrà la seconda edizione del Memorial nato per ricordarlo dopo il successo della prima edizione con 300 partecipanti anche quest'anno il ritrovo sarà al relais Villa Matarazzo di Farneto di Gradara per riproporre una camminata ludico-motoria di circa 6 km aperta a tutti appunto da Villa Matarazzo fino al Castello di Gradara e Ritorno si tratta di un evento ideato dall'associazione podistica Marotta Mondolfo Run nel segno dei valori dello sport tanto cari a Giovanni Ranocchi leader di Team System e Ranocchi Software nonché sostenitore di tante realtà sportive del territorio dal football americano alla nazionale basket sorde un sostegno all'inclusione che verrà confermato anche quest'anno con i partecipanti alla camminata che potranno devolvere la loro offerta libera alla Onlus gli insuperabili di Giulia ci si potrà iscrivere alla camminata via email all'indirizzo iscrizionigr.gmail.com il Lions Club Pesaro della Rovere organizza un incontro sull'arte figurativa del 900 a Palazzo Gradari giovedì 21 marzo alle 18 dal titolo il 900 nella collezione Elio Giuliani si tratta della collezione privata del giornalista pesarese che attualmente in mostra alla Dianart Gallery di Palazzo Bracci Pagani di Fano in una esposizione con 108 opere di 39 artisti della provincia da Ciro Pavisa ad Anselmo Bucci e Bruno Baratti da Sandro Gallucci a Nino Caffè il Lions Club Pesaro della Rovere promuoverà dunque una conversazione sull'esposizione a cura dello storico Claudio Giardini e di Rodolfo Battistini storico dell'arte che ha scelto le opere in mostra attenendosi ad uno sviluppo cronologico di tipo aperto andando a raccontare la storia dell'arte figurativa del nostro territorio nell'arco di un secolo attraverso i suoi maggiori esponenti e sarà invece Arrigo Sacchi il prossimo ospite della rassegna Incontri Capitali promossa da Pesaro 2024 in collaborazione con Passaggi Festival domani mercoledì 20 marzo alle 18.30 nella lusfera di Piazza del Popolo l'ex ECT della Nazionale Italiana di Calcio e storico allenatore del Milan presenterà il suo libro Il Realista Visionario Le mie regole per cambiare le regole in una conversazione con il giornalista Luigi Benelli si tratta di oltre 170 pagine scritte con Leonardo Patrignani nella quale Sacchi ci permette di leggere il dietro le quinte aprendoci idealmente le porte del suo spogliatoio per rivelarci filosofia e motivazioni che lo hanno accompagnato nel corso di una lunga e vittoriosa carriera e continua il progetto 50x50 Capitali al Quadrato di Pesaro 2024 mentre è in corso la settimana da Capitale della Cultura per il Comune di San Costanzo scalda già i motori organizzativi Gabicce Mare che ha presentato il suo Festival degli Sguardi che comprenderà anche il weekend di Pasqua nella sua settimana di cultura La settimana della cultura di Gabicce Mare è tutta incentrata sul Festival degli Sguardi per dare una visione di tutte le sfaccettature della cultura tutto il territorio sarà presente partecipe attraverso gli enti, le associazioni, i gruppi culturali per dare al pubblico che sarà presente alle scuole e ai turisti un momento di visione diverso del nostro territorio ricordo la partecipazione di tanti artisti perché allestiremo una mostra itinerante su tutta la città negli alberghi, nei negozi, nelle vetrine del centro e delle periferie avremo dei personaggi di livello di caratura internazionale sia dai fotografi, filosofi, esperti in comunicazione giornalisti che affronteranno lo sguardo nel mondo della comunicazione della filosofia per parlare anche degli sguardi inquietanti che riguardano il nostro futuro attraverso la intelligenza artificiale all'interno di questo programma ben strutturato poi c'è questa nostra realtà immersiva in questa gabice Maremonte Experience dove andremo a creare all'interno del Mississippi questo spazio con una tecnologia multimediale che ci permetterà di guardare all'interno di questo spazio tutto quello che c'è intorno a noi quindi dal mare al monte alla collina tutta la bellezza del nostro territorio che verrà risaltata dagli effetti multimediali e ringrazio naturalmente a Sound Delight che oltre a essere sponsor è il nostro supporto tecnico che ci curerà questa importante installazione la domenica che è il giorno proprio della chiusura un concerto in piazza Municipio dedicato a quello che sarà lo sguardo sulla disco music realizzato di Noniasi Corporation con l'artista Joyce Joule che andranno quindi a rivolgere anche in questo caso uno sguardo alla disco music al nostro festival principale disco diva la domenica, la sabato sera invece in piazza sempre Municipio il live di Cricca un giovanissimo artista in rappresentanza anche del nostro territorio perché viene dalla vicina Rezzone anche se è un artista ormai di fama nazionale e internazionale che ci delizierà anticipato da un DJ set con la sua voce la nostra sabato sera di festeggiamenti di questa settimana Ed ora lo sport è stata una giornata di grande ciclismo quella di oggi con la prima volta nelle strade della provincia di Pesolo Urbino della corsa internazionale Coppi Bartali giunta alla sua ventisesima edizione sotto l'organizzazione del gruppo sportivo Emilia alle 16.30 circa tagliare il per primo il traguardo di Viale Trieste è stato il 21enne tedesco Marco Brenner che ha vinto la gara davanti a tutta la carovana di 147 partecipanti Brenner è stato premiato sul gradino più alto del podio dall'assessore allo sport Mila della Dora la gara è arrivata in Viale Trieste dopo la partenza alle 14 in Piazza del Popolo prima dello start ufficiale sulla Monte Labattese da chiusa di Ginestretto il gruppo ha percorso le strade di Borgo Massano Tavuglia, Urbino, Monti delle Cesane Petriano e Gabicce rientrando a Pesaro attraverso la panoramica del San Bartolo ora la corsa tappe continua domani con la Riccione e Sogliano sul Rubicone per chiudersi sabato con la quinta e ultima tappa di Forlì e dal ciclismo passiamo a Calcio 5 e Basket le due squadre del gruppo Italservice che oggi hanno visitato una loro azienda sostenitrice facendo il punto sui rispettivi obiettivi playoff le aziende sostengono lo sport e talvolta lo sport entra in azienda è il caso delle due costole della famiglia Italservice quella di Calcio 5 e del Loreto Basket Pesaro che questa mattina hanno fatto visita alla Decor Leader di Cappone impresa specializzata nella produzione di bordi decorati da anni a fianco delle imprese agonistiche sportive dell'Italservice sono circa tre anni che partecipiamo e siamo soddisfatti del ritorno anche della visibilità che abbiamo dell'azienda attraverso i social attraverso Sky, attraverso tutto quello che ci va intorno per entrambe le compagini la visita arriva in un ottimo momento entrambe le squadre sono sospinte dal vento in poppa di tre vittorie consecutive che per il Calcio 5 concidono anche con la sosta del campionato utile a ricaricare le pile credo che quando abbiamo perso la partita con la Sala Consilina ci siamo riuniti i spogliatoi insieme allo staff e al mister ci siamo detti che se vogliamo arrivare a pre-off dobbiamo dare un po' più intensità, cambiare qualcosa quello che abbiamo fatto perché abbiamo fatto le ultime tre partite tre vittorie, nove punti importantissimi tre successi ma per Murilo arriva uno stop forzato sì, credo 20-25 giorni non magari una cosa molto molto grave come all'inizio il venerdì dopo la partita pensavamo dopo le ecografie, gli esami che ho fatto credo starà fuori per un po' per fortuna c'è la pausa adesso di una settimana quindi mi aiuterà però farò di tutto per tornare più forte di prima il 30 marzo si riparte da Mantua avendo bisogno di questi tre punti per la salvezza loro verranno molto agguerriti lì il campo è difficilissimo ci ho già giocato, è dura ci aspetteremo sicuramente una battaglia durissima ma il mister insieme ai giocatori sicuramente saremo preparati per arrivare lì con testa per provare a prendere questi tre punti che per noi è molto molto importante in questo momento del campionato Mantua contrassegnerà il via rush finale con le ultime quattro gare di regular season prima cosa dobbiamo entrare poi se dopo che entriamo vediamo che possiamo arrivare magari più in alto proveremo perché tutti sanno che poi il playoff è un altro campionato è un'altra cosa possiamo lottare anche con l'Olympus che è il primo proveremo se prendiamo loro ma con qualsiasi squadra lì si può competere e vediamo come va guarda i playoff anche l'Ital Service Loreto Pesaro dopo che la vittoria con Palestrina ha contrassegnato la terza vittoria di fila di fase play-in con ampio scarto in un periodo caratterizzato da una svolta a livello di continuità di prestazione c'è stata una svolta più che altro mentale che poi appunto si è vista anche dal punto di vista fisico e abbiamo alzato l'intensità sia dell'allenamento che poi in partita e questo sicuramente ci ha portato benefici e i risultati si stanno vedendo adesso il nostro obiettivo è cercare di vincere tutte le partite e dare il massimo e alla fine di queste otto partite vedere dove siamo arrivati senza fare troppi calcoli dobbiamo provare a dare noi il massimo e poi vedere cosa succede nei playoff obiettivi ambiziosi sostenuti dalla fiducia riposta dagli sponsor è importante insomma che si arrivi a fare dei buoni risultati come ci sono stati nel calcio a cinque anni fa e vedo che adesso stiamo tornando ad avere dei risultati buoni Loreto Basket è anche una nuova iniziativa che Lorenzo ha intrapreso e che seguiamo volentieri anche personalmente quando è possibile si va a vedere le partite al palazzo soprattutto calcio a cinque ecco seguo un po' più calcio a cinque del Loreto Basket quindi è importante insomma che i risultati vengono e poi l'importante è insomma che lo sport venga sostenuto in qualche modo perché c'è bisogno delle iniziative private per tenere su e sostenere squadre che comunque anche da un punto di vista economico penso che abbiano un certo impegno e si conclude qui questo nostro appuntamento con l'informazione di Rossini News ma continuano gli spazi informativi e divulgativi sulla nostra emittente subito dopo il Tg alle 20 andremo alla scoperta di un nuovo centro sportivo la Red Zone Training e Performance in uno speciale dedicato che come detto andrà in onda a partire dalle 20 e poi il martedì sera è la serata di Amministrando il nostro format di avvicinamento alle elezioni 2024 vi abbiamo dato un assaggio di alcune riflessioni nella nostra intervista nel Tg con Elisabetta Foschi la Foschi che è assessora alle politiche sociali del Comune di Urbino nonché esponente coordinatrice di Forza Italia sarà messa a confronto con Lorenzo Santi capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Urbino in questa puntata condotta da Luigi Benelli come detto a partire dalle 21.20 e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione sarà condotta dal nostro Marco Cadedu si conclude qui invece Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata